Il gol nella gara di esordio in campionato, anche se c'è stato un po' l'aiuto del portiere di Terni, poi tanta continuità è dato, non come segnature, come gol realizzati, ma come qualità a servizio della squadra. Quello è grazie anche ai miei compagni che mi permettono di rendere al meglio. Ancora sinceramente non sono al 100% della forma, però sono soddisfatto sia per me che per i miei compagni perché stiamo veramente bene insieme. Ti chiedo se potessi scegliere tu esterno a destra o esterno a sinistra nel tridente? Io ho sempre giocato come esterno sinistro, però anche a destra non mi cambia sinceramente. Poi io sono a disposizione della squadra del mister e dove c'è bisogno io gioco. Pre-campionato hai segnato praticamente sempre, poi il gol a Terni, adesso è tornato il momento di segnare con la pianese. Speriamo, speriamo, però l'importante è vincere, quella è la cosa più importante. Sappiamo di affrontare una squadra abbastanza fastidiosa e quindi dobbiamo metterci il 100% come abbiamo messo nelle altre partite. Ti chiedo una cosa, Cursio, ti chiedo. L'anno scorso è iniziato la stagione con la Juve Stabia che poi ha vinto il campionato. Mi sai dire se c'è qualche analogia tra questo gruppo e quello della Juve Stabia? Sì, qualcosa sì perché comunque tutto lo fa il gruppo. Il gruppo è una cosa importante, quello che ti fa andare avanti durante l'anno, quello che fa stare bene tutti dal mister al magazziniere ai giocatori. Se diamo continuità possiamo fare veramente bene come ho detto nella scorsa intervista. Ti chiedo l'ultima cosa, sta rientrando, anzi è rientrato in gruppo Davide Merola, senti la pressione per avere alle tue spalle ora un giocatore così importante? No, siamo compagni di squadra quindi ci dobbiamo aiutare l'un l'altro.